Oggi vi faccio vedere un po' di fotografie, anzi un bel po' di fotografie, e ve le racconto, vi racconto un po' i miei progetti principali. Io sono vent'anni e faccio il fotografo circa, anzi venticinque, e quindi mi sono iniziato a... mi è venuta la voglia di dire ok, prendo questa macchina fotografica e inizio a fotografare quello che c'è intorno a me. E mi sono trovato a un certo punto allo spring break, quindi io ero arrivato a gennaio negli Stati Uniti, questo è successo a metà febbraio circa, sono andato a queste feste che succedono nel sud del paese, nelle vacanze di primavera, quindi magari qualcuno di voi ne ha sentito parlare, ma sono delle feste esageratissime, dove tutto quello che è proibito durante l'anno, per quel weekend è consentito. E ho iniziato a fotografare, quindi ero molto istintivo, ho preso la macchina fotografica e ho fotografato quel che c'era, insomma gente che si sballava, ubriacava, eccetera eccetera. Quello che succede è che ho la faccia tosta di prendere un po' queste foto che ho fatto, mi seleziono una trentina, inizio a mandarle ai giornali di Mezzomondo e Vanity Fair me le compra. Vanity Fair in Italia decide di fare un servizio sullo spring break americano e quindi mi pubblica queste foto con un layout diciamo discutibile, però insomma me le compra e mi paga. E io dico wow, questa è una figata, cioè sono qua, mi diverto, sono con la mia finanzata in un paese nuovo. Mi pagano pure, ma dato in quel momento uno stimolo pazzesco a crederci e a pensare che potesse essere in effetti quella lì la mia strada. Avevo sentito parlare del couchsurfing e decido, non so quanti di voi sanno cos'è il couchsurfing, però ora purtroppo esiste poco. Lo scopo finale di questo social network è scambiarsi ospitalità. Quindi una volta che sei iscritto alla piattaforma decidi di fare un viaggio in Ghana, puoi accedere alla pagina dei couchsurfing ghanesi e puoi chiedere ospitalità. E quindi nel 2011, 2010, sono partito per un giro del mondo che ha durato due anni, che mi ha portato in 58 paesi e ogni volta ero ospite di qualcuno. In ogni paese stavo 4-5 giorni, massimo una settimana e poi scrivevo delle piccole e brevi storie per raccontare chi sono le persone che mi aprono la porta. Sono stato nelle Filippine, ospite a casa della ragazza che è la presentatrice del telegiornale serale del canale nazionale delle Filippine, quindi comunque anche un volto noto, in Thailandia da due musicisti che sembrano usciti da un film di Austin Power, a Madrid, qui si parla d'amore in questa storia, a Tokyo. Sono arrivato lì tre giorni dopo lo tsunami del 2011. L'unico ragazzo che ho trovato che era disponibile a ospitarmi è questo ragazzo qua, che era un pochino disconnesso dalla realtà, nel senso che quando sono arrivato a casa sua mi ha detto, no, ma sicurati qui in Giappone, ma noi rimettiamo tutto a posto in tre giorni, ma che capirai cos'è questo tsunami, a noi non ci fa nulla. E quindi in questo caso ho deciso di fotografarlo in piazza Shibuya, che benché sembri molto luminosa in questa foto, posso assicurarvi che è molto buia su questa foto, perché solitamente è piena di colori e di luci. E l'ho fotografato un po' in mezzo a quest'onda di persone per raccontare come lui non si accorga che comunque uno tsunami abbia trasformato un po' tutto in quel momento là. In barcavela in Norvegia, appunto chi fa couchsurfing non è detto che ti ospiti a casa, ti ospita dove puoi ospitarti. Alle isole Fiji, una ragazza che mi ha ospitato pur essendo all'ottavo mese e mezzo di gravidanza del quarto figlio. Questa è anche una storia particolarmente simpatica. Qui sono nello Yukon in Canada, il giorno più freddo della mia vita, faceva meno 47. La casa dove mi ha ospitato lui, quella lì alle sue spalle, è una casa senza acqua corrente, perché l'acqua si congelerebbe nei tubi, quindi in casa non c'è acqua corrente. Per fare la doccia, due o tre volte a settimana si scende in paese dove ci sono le docce pubbliche. Per cucinare o per lavarsi i denti ci sono delle tanniche, quindi il minimo è indispensabile in delle tanniche, però la cosa veramente più rock and roll è il bagno, che è questo stanzino che si vede a lato della casa con la tenda verde, che non è altro che un gabbiottino con un buco per terra che finisce, non voglio sapere dove, e lì è il bagno. Quindi a qualsiasi momento del giorno e della notte, se devi fare quello che devi fare, devi uscire fuori a meno 47 e farlo. Quindi mi sono adattato quei due o tre giorni, poi a un certo punto però così ho fatto una battuta, lui ho detto, figo qua, si bello, insomma la neve, i cani da slitta, non male, ma insomma far la cacca a meno 47 là fuori non è proprio il massimo. Ma sì, ma in realtà d'inverno è molto più semplice, d'estate ci sono gli orsi che ti aspettano in bagno. Ma insomma, non male. Ora passa un'altra storia che è sempre frutto di quei due anni di viaggio, perché prima di partire ho fatto un po' un giro di saluti agli amici, ai parenti, perché era la prima volta che andavo via di casa per due anni, tutti i viaggi precedenti erano sempre due o tre mesi, quindi un po' si erano abituati i miei parenti a vedermi andare via e tornare, però due anni era un'altra roba, insomma, quindi sono andato a salutare tutti, arriva il turno di mia nonna, vado da lei, dico ciao nonna, sai io parto, vado due anni in giro per il mondo, ci vediamo quando torno, tranquilla, tutto bene, faccio couchsurfing, mi ospita la gente, e lei mi guardava con due occhi, dice ma che cazzo dici, che roba è? E dico, ma sì, ma tranquilla, c'è tutta una roba su internet, delle referenze, gente fidata, più parlavo e più andava nel panico, proprio era una roba, la vedevo, stava veramente andando nel panico, fino a che dopo un'ora di tentativi per cercare di tranquillizzarla, lei mi ferma e fa, sì sì, Bagonghi, perché mi chiamava così, non so perché, mi chiamava Bagonghi, fa sì sì Bagonghi, ho capito tutto, non mi importa, ma cosa mangi quando sei in giro per il mondo? Mi hanno detto che in Cina mangiano i cani, in Africa non c'hanno da mangiare, ma io sono preoccupata, capisco che la sua vera preoccupazione è il cibo, quindi rispondo a mia nonna e dico, senti, le nonne ci sono in tutto il mondo, che io sappia sanno cucinare in tutto il mondo, tranquilla, andrò a scena a casa delle nonne, così non torno deperito. Questa è mia nonna, quindi in ogni paese, partendo dall'Italia, quindi ecco, partendo da lei ho chiesto, fammi il tuo piatto forte, lei mi ha fatto i ravioli fatti a mano, quindi ho fatto la fotografia di mia nonna con tutti gli ingredienti freschi, contati, cioè esattamente quelli di cui ha bisogno per quella ricetta. Il piatto finito, poi ho scritto la ricetta per filo e per segno, proprio perfetta, e ho scritto anche una storia su mia nonna, e questa è stata la prima, e da qui in poi in ogni paese ho fatto la stessa cosa, ho trovato una nonna, ho chiesto, mi sono presi tanto dicendo, mia nonna in Italia è preoccupata che non mangio, per favore fai qualcosa, e tutte le nonne hanno accolto questa richiesta con molto amore, e quindi mi hanno cucinato i loro piatti forti, e ogni volta, di nuovo, la foto della nonna con gli ingredienti, il piatto finale, una storia per sapere chi è questa signora, la ricetta, e settimanalmente poi impacchettavo questa roba e la spedivo a mia nonna, chiedendo a mia mamma, cioè spedivo a mia mamma in realtà, chiedendo a mia mamma di far vedere alla nonna cosa stessi mangiando in giro per il mondo. E così, questa è in Telandia, ora qui non posso raccontarvi le ricette, vi faccio vedere solo le foto, però lei è in Argentina, in Armenia, in Bolivia, Cambogia. Questo è stato un piatto veramente rock and roll alle isole Caiman, ho visto questa signora inseguire l'iguana in giardino e poi portarmela ancora mezza moribonda così a tavola, però non era male, devo ammettere che, a parte il primo disgusto nel vederla scuoiare di fronte a me e poi dopo sapeva di pollo. Tutto fritto in Colombia, in Etiopia, una roba molto piccante, pesce freschissimo all'isole Fiji, se non ce l'hanno lì dove vuoi che ce l'abbiano, una zuppa di latte di cocco e squalo alle Filippine, in Grecia una torta salata, molto più semplice, ad Haiti, questo è il lambì, che è un molluscone che sta dentro queste conchiglie giganti che avete sul tavolo, in Olanda, in Kenya, in India, piccantissimo, quasi come il calendario che c'è alle sue spalle, in Lituania, a Ringa, a Beirut, in Libano, degli scarafaggioni in Malawi, questi, devo dire, qui non ce l'ho fatta, alcune cose non ce l'ho fatta, cioè di questi ce l'ho fatta, ne ho mangiato uno, faceva un po' schifo, ho pensato fosse difettoso quello, ho mangiato un secondo con la speranza che magari il secondo è meglio e invece era peggio e quindi ho dovuto fingere che ero sazio, questo non ce l'ho fatta, ho sempre più o meno mangiato tutto, in due o tre casi non ce l'ho fatta, questo in un altro caso che mi hanno dato dei topi, che però non era una nonna, era proprio un altro villaggio, in un villaggio in Camerun, mi hanno cucinato delle robe e ho detto ma sembrano topi, e mi hanno detto no no sono topi, e dico ah ok, e lei in Polonia, in Turchia, in Zimbabwe e voilà, sono varie, questo poi è il libro che raccoglie tutte le ricette.